Dove c'è energia, c'è creatività, c'è innovazione, c'è industria che rispetti la natura. Oggi la grande sfida è la sfida dell'innovazione, del fare energia rispettando l'ambiente. Napoli sta provando a dare dei segnali forti in questi anni, infatti noi siamo stati sempre presenti, anche io sono sempre passato a EnergyMed e ritengo che si deve puntare molto su questa linea, dalla mobilità sostenibile, quindi le biciclette, al tema dell'igiene urbana, come trasformare la città che prima che diventassimo amministratori era conosciuta al mondo per i rifiuti e oggi si avvia a realizzare, anche se con difficoltà, il protocollo rifiuti zero. Quindi le compostiere che ho visto qui presenti, il porta a porta, lo stesso vale per gli investimenti che stiamo facendo in città per il solare, a cominciare dalle scuole, c'è ancora tanto da fare, bisogna andare a captare finanziamenti europei perché i bilanci comunali sono sofferenti, quindi non solo Napoli ma un po' tutte le città soffrono e poi bisogna invertire la rotta perché a livello mondiale tutti comprendano che non è attraverso il carbone che si scrive un futuro migliore ma attraverso altro.